Salve, io sono Paola Paladini, co-titolare dell'Agenzia EventOne di Orvieto. Sono insieme alla mia collega Denise Virgili, ci occupiamo di organizzazione eventi, organizzazione matrimoni e la nostra società è molto dinamica, da anni lavora per clienti italiani e stranieri e abbiamo una base di intervento che è il centro Italia principalmente. Siamo una società che opera sia con clienti privati che con clienti aziendali, perché i nostri eventi non si limitano semplicemente a matrimoni, cerimonie e ricorrenze di vario genere, ma organizziamo anche meeting, conferenze e eventi su misura per molte aziende in ambito sempre regionale Umbro, ma anche centro Italia. Tra i nostri prodotti e servizi di qualità abbiamo fatto una scelta con la mia collega di occuparci anche di un settore che a noi sta molto a cuore, come dicevo inizialmente, che è quello dei matrimoni e in particolare in questo settore, essendo delle wedding planner di professione da diversi anni, abbiamo deciso anche di comunicare la qualità, cioè il nostro modo di vedere le cose con un prodotto totalmente nostro che è sia cartaceo, si chiama Sposare in Umbria, che è online, sposarenumbria.it, quindi potete trovarci anche direttamente sul web con il nostro portale omonimo alla guida, che è proprio una guida studiata per le coppie, per aiutarle proprio nell'organizzazione del matrimonio, di cui poi vi può parlare meglio anche la mia collega, perché progettualmente parlando è stata una sua idea. Salve, sono Denise Virgili, cotitolare dell'agenzia Event One, collega di Paola Paladini. Come diceva la mia collega, non ci occupiamo soltanto di servizi ed eventi legati esclusivamente al matrimonio, ma eventi in senso generale. Da circa però due anni abbiamo intrapreso anche una nuova strada e ci occupiamo anche di un nostro prodotto editoriale, si tratta di una guida, è una guida annuale, il titolo è Sposare in Umbria. Sposare in Umbria è una guida cartacea che si occupa dell'organizzazione, diciamo è una guida per l'organizzazione perfetta del matrimonio. Questa è la seconda edizione edizione 2011, o meglio è il secondo anno, edizione 2011. Si articola in sette sezioni all'interno dei quali ogni sezione è aperto da un articolo, un redazionale. La maggior parte di questi articoli sono curati anche da esperti del settore, quindi tipo articolo relativo a foto e video, a location ristoranti, il make up, acconciature ed estetica. Sono dei redazionali che spesso sono curati dagli esperti del settore. Quello che più ci interessa dire è che oltre ad essere gratuita, distribuita gratuitamente, può essere richiesta direttamente a noi, sia via web, quindi proprio tramite i nostri indirizzi mail info-sposarenumbre.it oppure info-eventuanonline.com, ma anche direttamente telefonando al nostro numero dell'agenzia che è 0763 301990, che è la sede principale della Event One che sta ad Orvieto, in via del 1 maggio 57. Noi, ripeto, pur stando ad Orvieto operiamo su scala del centro Italia e da anni lavoriamo per clienti italiani e stranieri. Sposarenumbre è quanto ci può rappresentare al meglio in termini di qualità, professionalità ed eleganza, che è poi quello che noi a livello di filosofia aziendale vogliamo comunicare al pubblico nostro principale, che è quello privato, quindi le coppie di futuri sposi. Per quello che riguarda la nostra filosofia come wedding planner pensiamo che non ci possa essere innovazione senza uno sguardo comunque alla tradizione. Grazie a tutti.